Come è andata un po' la stagione e i saldi? La stagione estiva ha visto un numero di presenze molto alto che ha premiato molto soprattutto le attività di alimentazione, abbiamo avuto già modo di parlarne. I saldi quest'anno non sono mai decollati, malgrado i saldi il mercato non è mai decollato in confronto agli altri anni. È dovuto anche al fatto che particolari offerte a partire da noi ma a finire alle grandi aziende non ci sono state perché c'è un po' di mancanza di prodotto sul mercato e questo ha fatto trattenere dal poter svendere completamente la merce. No, infatti non sono partiti perché se lo vede c'è un vuoto totale quando riguarda il turismo e quando riguarda anche il chitano. perché c'è la paura, c'è insicurezza, c'è la sospensione di tutto. Non riusciamo neanche a reggersi con le spese proprie, in più tutto questo aumento e tutto con Green Pass. La gente praticamente se ne frega. Guarda, sono partiti relativamente bene, però poi dopo è scemato tutto, quindi siamo rimasti un po' delusi, ti dico la verità. Però forse sarà dovuto anche dal fatto che poi sono partiti varie DPCM che forse hanno limitato un po' le persone. Credo che possa essere anche questo, però ti direi rispetto a quando ti ho detto l'ultima volta siamo rimasti un po' delusi. E le previsioni? No, come ti dicevo sono positivo, quindi credo che con il bel tempo e soprattutto con il finire di questa pandemia o di queste restrizioni, credo che l'isola possa offrire ancora tanto anche a livello commerciale. Speriamo bene, dalla tv, dalle medie si sente che siamo in calo, noi siamo sempre organizzati, noi siamo sempre fiduciosi, però non sappiamo quello che succederà realmente. Ho una previsione ottimistica, però con un piccolo inciso negativo. E qual è? La previsione ottimistica che mi è sembrato di vedere dal calendario, in verità noi lo controlliamo un anno prima perché facciamo le collezioni, che Pasqua verrà molto alta e quindi siamo intorno al 22-23 di aprile. E quindi dovrebbe cominciare una stagione già molto florida perché poi i ponti di maggio, insomma, eccetera, eccetera. Però è anche vero che temo che dobbiamo attendere una data molto più lontana per incominciare la stagione. E quindi, come dire, bisognerà tenere la cintura stretta fino ad allora. Quanto riguarda invece i turisti? Ne avete visti molti, pochi? Turisti, abbiamo visto un po' di turisti nella famosa settimana dal 26 al 2 di gennaio. Per il resto attendiamo tempi migliori.